Sovrintendente Shank, dobbiamo sapere dov'è. Senta, so che è in prigione. Solo che in prigione non c'è. È ovvio che no. Ha promesso di aiutarmi. Lo sa che cosa hanno fatto a mio figlio. Devo fermare quell'uomo. Sono un poliziotto. Non più. E se non ti inginocchierai, la squadra tattica ti ucciderà. Succederà qualcosa. John, ti ho guardato negli occhi. Perché ero curioso. Volevo sapere se mi avresti visto dentro. Perché è questo che sei, vero? Sei l'uomo che sa tutto sulle persone come me. Ma perché annunciarlo? Vuole che il mondo pensi che lui è un incubo. Venti che lo becco prima che voi beccate me. Anche cinquanta. Io lo conosco. So quello che va fatto. Mi vedi ora? Mi sto divertendo tanto. Che l'incubo arrivi. Sono pronto. Dio. Chiara e le vie. Non Rock. Emanuele. Mi vedi ora è un ultimo lavoro. L'unico. Grazie a tutti.